Buongiorno a tutti da Alessandro di 4V d'Italia. Oggi andiamo a vedere una via di mezzo tra un accessorio e un ricambio che noi utilizziamo spessissimo sulle nostre Jeep. Potrebbe sembrare una cosa banale perché stiamo parlando di un filtro dell'aria. Questo è un filtro dell'aria che ha visto tempi migliori, è un filtro in kart, è un classico ricambio. C'è una validissima alternativa, che adesso vi spiegherò perché valida, ha questo filtro semplicissimo ricambio, che sono i filtri, noi trattiamo KN, sono filtri sportivi in maglia metallica e cotone. Adesso andiamo a magari aprire la scatola così con il filtro in mano, è tutto più semplice. Visivamente si vede che c'è qualcosa di diverso tra i due, questo mi sembra abbastanza intuitivo. Questo filtro permette un flusso dell'aria maggiore rispetto a quello che è il filtro tradizionale. Inoltre si vede anche dal punto di vista costruttivo la gomma, è una gomma heavy duty, cioè una gomma fatta per durare, la sagoma del filtro quindi rimane integra anche per lungo tempo. Una delle caratteristiche di questo filtro, oltre a permettere un maggior flusso dell'aria, è che è lavabile. C'è un kit apposito per il lavaggio e l'oliatura del filtro, l'olio è fondamentale perché serve come barriera per non fare entrare pulviscolo, sabbia, tutto quello che può compromettere, per il quale il filtro è messo dove è. Il fatto di essere lavabile praticamente permette a questo filtro di essere sostanzialmente eterno. Oltre appunto a un vantaggio anche in termini di prestazioni, perché il motore che respira meglio va di più e va meglio, o comunque ha un rendimento costante che non viene inficiato dal fatto che il filtro mano a mano si sporca e perché comunque si può fare una manutenzione molto più accurata. C'è un aspetto se vogliamo anche ecologico, perché così non si continuano a buttare filtri di carta, questo è un aspetto che può sembrare secondario, ma secondo me non lo è per nulla. L'installazione di questo filtro è facilissima, adesso questa è la scatola filtro, non sto a smontarla, comunque con 4 viti si solleva, si toglie il filtro originale e al suo posto si mette questo filtro. È una modifica che noi raccomandiamo, è anche molto utile nel momento in cui si va a intervenire sulla mappa della centralina, perché generalmente l'abbinamento filtro e mappa, nel caso di motore benzina anche scarico, è un classico, è un entry level di preparazione elettronica, però questa è una delle cose che noi raccomandiamo. È disponibile per praticamente tutti i modelli di Jeep, qui parliamo di Wrangler JK, ma c'è anche per Wrangler JL e piuttosto che TGA, tutti i modelli di Jeep. Se siete interessati all'acquisto di un filtro come questo, lo trovate sul nostro sito che è 4vditalia.com. Per qualsiasi consiglio, dubbio o qualsiasi aiuto che desiderate, io sono a vostra disposizione, mi trovate su WhatsApp e il mio numero è 338 73 12 725. Alla prossima! Ciao!